Semi al vento in furia la buve Due giorni di semi al vento Il 5 e 6 febbraio Expo dei Popoli e la Campagna per l'Agricoltura Contadina Vi invitano a difendere chi ogni giorno Lotta per una produzione di cibo Che renda il pianeta giusto e sostenibile Venerdì 5 febbraio Dalle 12 alle 18 Alla loggia dei mercanti Fumetti, film, musica E testimonianze dei campi Dalle 18 Il futuro del cibo nel rapporto Città-Campagna Conferenza con rappresentanti dei Comuni Europei E della Via Campesina Alla Sala Clerici di Via della Signora 3 Sabato 6 Dalle 9 alle 18 Alla Fabbrica del Vapore Giornata di studio sulle proposte di legge Depositate in Parlamento ExpoDeiPopoli.it Invece di una bestemmia dico Abbasso i vini barricati